Locke, la vera chiesa cristiana e tollerante. Signor illustrissimo, poiché mi chiede che cosa pensi della mutua tolleranza tra cristiani, le rispondo brevemente, che questo mi sembra il segno di riconoscimento più importante della vera chiesa. Gli uni, infatti, possono vantarsi dell'antichità dei luoghi e dei nomi del loro culto, dello splendore del culto, altri della riforma delle discipline. Tutti, infine, possono menar vanto dell'ortodossia della loro fede, perché ciascuno è ortodosso per sé stesso. Tutti questi altri del genere possono essere segni delle contesi umane sul potere e sull'autorità, più che segni della Chiesa di Cristo. Questo scrive Locke nella lettera sulla tolleranza, all'illustrissimo signor Tarptola, che sta per Limbork di Amsterdam, professore di teologia presso i rimostranti e odiatore della tirannide.